Vince la canottieri Firenze questo quattro senza junior femminile sulla scia del settore maschile con i protagonisti, anche loro pongono la firma con il quattro senza. Abbiamo con noi le protagoniste ma partiamo proprio da Beatrice che quest'anno con la medaglia di bronzo in otto al mondiale ha sicuramente dato il via a una stagione ma soprattutto a un futuro di grande successo. Com'è andata questa gara? Quali sono state le sensazioni? Le sensazioni sono state buone anche se abbiamo fatto anche la finale del quattro senza senior quindi eravamo un po' stanchi però siamo soddisfatti, abbiamo fatto il nostro. Questa medaglia mondiale cosa rappresenta per te? Spero un punto di partenza e sicuramente una grande soddisfazione, una coronazione di tanti sacrifici. La canottieri Firenze è molto affiatata, un gruppo maschile veramente molto affiatato ma anche voi non scherzate e insieme con una medaglia mondiale siete riuscite a vincere il titolo. Com'è remare con una ragazza che ha già calcato il podio internazionale? Beh è sempre una bellissima esperienza, è sì una nostra compagna di barca ma anche una nostra amica e quindi diciamo l'unione fa la forza. La cosa più bella di questo quattro senza secondo voi? La nostra unione. Allora ragazze complimenti, canottieri Firenze protagonista anche in questa specialità, speriamo di rivederci presto sul gradino più alto del podio. Bravi ragazze! Grazie.